Allora, siamo convinti che questa sia una campagna che vada nella direzione di sostenere uno dei beni e dei capitali più importanti per la nostra società, ovvero il capitale intellettuale, la cultura, perché siamo convinti che la cultura sia la base di quello che poi dopo è lo sviluppo nel medio-lungo termine di un paese, perché la cultura è la base di quella che è la libertà di pensiero e sulla libertà di pensiero che si costruisce realmente la crescita.